Il volley Arno biss al successo di Impruneta nella semifinale di ritorno contro le Biancoverni e con un altro secco ed indiscutibile 3-0 sul campo guadagna l'accesso alla finalissima dei play-off regionali di Serie C. Primo parziale che scivola via sin dall'inizio, sale subito in cattedra Mantelli, migliore in campo per le Rosso-Blu, che manda le compagne avanti di 4 sul 6-2 ed il divario in pratica a quel punto non è mai più ricucito, giungendo fino ad un massimo di più 7 sul 21-14. Le ragazze allenate da Marco Lapi controllano l'ultimo tentativo di ritorno e mettono a terra il pallone del 25-20, che in effetti evidenzia meno di quanto accaduto sul campo la superiorità delle Aquilotte. Impruneta però sorretta da un'ottima Cappuccioni, che in attacco non sbaglia niente, tiene testa nel secondo set, unico nel quale colleziona anche piccoli vantaggi fino al 18-19. A questo punto però con il favore bianco-verde, Lapi chiama time-out ed è la svolta contro sorpasso e chiusura sul 25-21 Rosso-Blu. Non basta ovviamente, dato che con un qualunque successo ospite si sarebbe andato al golden set, ma il terzo è una fotocopia del primo, quasi, e alla fine il tabellone dice 25-17, con l'ultimo punto fatto partendo dalla posizione difensiva. Adesso la finale con il Cussiena, vincente sul volley Arno al tie-break in entrambi i confronti di campionato. Il sogno della B2 è però adesso davvero più vicino. Grazie a tutti.